Un vecchio edificio recuperato dal comune di Torchiara è diventato oggi un fiore all'occhiello del comprensorio dell'Alto Cilento. Oggi ospita bambini dai sei mesi ai tre anni, consentendo ai genitori di potersi dedicare al loro lavoro. L'asilo nido, il borgo dei piccoli e oggi una struttura nuova e all'avanguardia, con spazi allestiti sia all'interno che all'esterno. Il progetto è stata un'idea che sembrava un'idea assurda, pazzesca, però con l'impegno, con la professionale di tutti siamo riusciti a realizzarle. Ed è stata accolta dalla comunità in modo eccellente, è vero che c'è l'utenza, c'è il bisogno nella zona di strutture che ospitano questi bambini dai sei mesi ai tre anni, consentendo ai genitori, per entrambi i genitori che lavorano, di poter dedicarsi al lavoro e ad avere i propri figli in una struttura sicura ed accogliente. Per noi come amministrazione è stata una grande scommessa, perché comunque parliamo di una piccola comunità che comunque si sostenta sull'economia familiare, quindi dove i nonni comunque badano ai piccini. Oggi avere qui più di 15 bambini per noi è stata veramente una bella soddisfazione. Un successo dato sicuramente dall'armonia e dalla grande complicità, mi piace dire, dello staff, quindi degli insegnanti e di tutti coloro che comunque concorrono ogni giorno a far sì che ci sia un'accoglienza adeguata ai bambini. E quest'anno siamo intenzionati ad introdurre anche un percorso di sostegno ai genitori, quindi laddove i genitori avranno uno spazio dove potranno confrontarsi anche con esperti per essere un po' guidati in questo ruolo. Questo asile è stato pensato e costruito rispettando tutti i criteri di qualità e di sicurezza. Non a caso abbiamo due aree, un'area interna ludica e un'area esterna con tutti i sistemi riguardanti la sicurezza, dai tappetini di gomma esterni, aree giochi con tutte le nuove normative in materia di sicurezza e aree interne che addirittura abbiamo, che sono tutte videosorvegliate. È un percorso che per entrambe inizia da più o meno dieci anni, scelto come percorso di studi e poi nella pratica scelto come percorso lavorativo e ogni giorno lo scegliamo, perché noi ogni giorno scegliamo di lavorare qui con loro in serenità e cerchiamo di creare un ambiente quanto più simile a casa loro. Dalle sette e mezza fino alle dieci c'è l'accoglienza dei bambini qui all'interno della struttura e i bambini durante l'accoglienza fanno gioco libero comunque perché in un nido il 90% più o meno delle attività è costituito proprio da gioco libero in cui i bambini si relazionano e socializzano tra di loro. Dopo la merenda, il riordino, si prepara un'attività, attività che possono essere attività di manipolazione per cui pasta al sale, plastilina, tutto fatto e creato con materiali comunque naturali che non nuociono comunque alla salute dei bambini.